è molto semplice facciamo un ripasso tipo we were traveling on a lumsum road we were traveling on a lumsum road è molto facile un po' di fiducia si dicono che non viene bene noi non stiamo fuori da niente tanto non sapete noi stasera dormiamo qua in albergo ci vediamo la suite perché domattina vogliamo fare colazione qua lo sapete non possiamo affrontare un viaggio di ritorno così vabbè non viaggio di ritorno così Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.